Ciò che più ci sorprende nel Vangelo di oggi non è tanto il miracolo in sé del fatto che Gesù guarisce un sordo muto, ma ciò che più sorprende sono i gesti che lui manifesta nel guarire questo sordo muto, cioè lui lo porta in disparte, lontano dalla folla, gli pone le dita negli orecchi e con la saliva gli tocca la lingua e poi ha miso un sospiro e gli disse è fatà, cioè il fatto che lo tocca e questo è molto importante perché noi tante volte pensiamo che annunziare la relatizia sia un qualcosa soltanto di parole, soltanto di annunzio, che ha anche un suo valore straordinario, ma ciò che però più conta è il toccare. Gesù ha dato voce, ha dato la parola, ha dato l'udito a quella persona proprio perché l'ha toccato, cioè è entrato in contatto col suo dramma, è entrato in contatto con la sua sofferenza, così vale per ciascuno di noi, noi possiamo dare redenzione ad altri, soltanto se entriamo in contatto nella loro ferita, nella loro povertà, nella loro miseria. Ma la stessa concretezza vediamo nella prima lettura, tratta dal primo libro del re, in cui questa stoffa, questo mantello del profeta viene diviso in dodici pezzi, a indicare la concretezza del dramma, della divisione tra le tribù di Israele e le tribù di Giuda, perché Dio entra anche nella concretezza del dramma, della divisione, non è un Dio estratto, un Dio che tocca, che ci tocca nelle nostre fragilità e che anche lui viene toccato nel cuore dalla nostra fragilità, perché è innamoratissimo di ciascuno di noi e per questo ha mandato il suo figlio per la nostra redenzione. Buona missio.